Elezioni europee e seggi aperti nei Paesi Bassi, è il primo paese dei 27 a dare il via alla quattro giorni di voto per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Spagna, nonostante sia una delle economie in più rapida crescita in Europa, molti spagnoli risentono dell'aumento del costo della vita, l'approfondimento di Euronews. Striscia di Gaza, raid israeliano in una scuola dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi nel campo di Nuseirat, almeno 37 i morti. Seggi aperti nei Paesi Bassi, dove giovedì 6 giugno è iniziata la quattro giorni di voto per eleggere il nuovo Parlamento europeo. I cittadini olandesi sono i primi a votare tra i 27 paesi dell'UE. Venerdì toccherà agli irlandesi, poi a tutto il resto dell'Unione. Nei Paesi Bassi i cittadini sono chiamati a votare per 31 seggi disponibili dei 720 del Parlamento europeo. Le urne resteranno aperte fino alle 21, poi arriveranno i primi exit poll. Lo spoglio inizierà nella serata di giovedì, ma i risultati non saranno annunciati prima di domenica sera. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, lo scorso anno l'economia spagnola è cresciuta del 2,5%, un decimo in più delle stime del governo. Nei supermercati della Capitale, le persone sembrano preoccupate dell'aumento dei prezzi. Eppure, negli ultimi anni, i dati sull'occupazione non sono mai stati così positivi. Anche a causa della situazione geopolitica instabile, altro tema cruciale in vista delle elezioni europee del weekend. L'economia spagnola è in crescita per il terzo anno consecutivo. L'economia è un tema sempre più centrale tra la popolazione. In questo scenario è possibile che gli elettori pensino sempre di più all'importanza dell'economia. Le elezioni europee sono in programma in Spagna domenica 9 giugno. A pochi giorni dall'elezione europea, in programma nei 27, dal 6 al 9 giugno, i sondaggi di Euronews rivelano che l'attesa vittoria dei conservatori difficilmente troverà un'intesa politica per votare il presidente della futura Commissione europea. Secondo Euronews Post Center, se i conservatori avessero la tentazione di formare una coalizione, dovrebbero integrare i liberali di Renew Europe per far coincidere la logica parlamentare del numero dei seggi con la realpolitik degli interessi dei governi dell'UE. Anche la coalizione dei gruppi pan-conservatori sembra difficile da formare. Sarebbe troppo sbilanciata a destra, in un momento in cui anche l'ultradestra sembra divisa. Non è solo una questione di numero di seggi, suggeriscono i sondaggi, ma di orientamento politico dell'UE. L'unico tema che può dare coesione alla destra è la lotta all'immigrazione, ma le strategie stanno divergendo tra il fianco meridionale e le parti orientali e settentrionali dell'Unione Europea. But the center of gravity will certainly move to the right. And this is something the EPP, which will then be the central player, will be able to use as a blackmail potential vis-à-vis the liberals and the social democrats, if not the aggrines. I don't believe that the EPP is serious about working with identity and a democracy. that would also be political suicide at the national level, but they will certainly use it. Secondo Euronews Post Center, i partiti politici tradizionali dovranno affrontare il difficile compito di essere costretti a governare il futuro Parlamento alla ricerca dei voti di un blocco frammentato della destra radicale. Il voto dei cittadini alle elezioni europee è spesso accompagnato dall'aspettativa che qualcosa cambi e che possa migliorare. Le principali questioni che preoccupano i cittadini sono l'economia e la sicurezza. Lo rivela Boyd Wagner, capo analista del centro sondaggi di Euronews. Le preoccupazioni economiche sembrano riaffiorare in Unione Europea e per i cittadini l'aspetto finanziario è spesso legato ad altre tematiche, come la transizione ecologica, la sanità e la crisi immobiliare. Le preoccupazioni economiche sembrano riaffiorare in Unione Europea e per i cittadini. sono stati e che sia un'ottima, ma sia un'ottima che sia un'ottima, che sia un'ottima di sì che l'onchia è rimbletta. E che la stazione economica è un ottimo interlaino di un mondo globale. E che abbiamo anche dei problemi in Irelia. Inizia continua a che essere un'ottima crisi di vivere cari. A livello politico la discussione verte più sulla competitività, ma ai cittadini europei interessano soprattutto le questioni della vita quotidiana. Come spiega Sofia Rassak, ricercatrice del CEPS, questi temi sono due facce della stessa medaglia. Le aspettative variano da paese a paese, ma tutti gli elettori hanno bisogno di una prospettiva migliore per il loro presente e il loro futuro. Bombardata una scuola dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi dalle forze israeliane nel campo di Nusairat, nel centro della striscia di Gaza, uccidendo almeno 37 palestinesi sfollati e ferendone altre decine. L'Agenzia di stampa palestinese Uafa, riporta l'emittente Al Jazeera, ha dichiarato che migliaia di sfollati palestinesi avevano trovato rifugio nella scuola al-Sardi nel campo di Nusairat, collegata proprio all'Urwa. Il portavoce dell'ufficio governativo dei media di Gaza ha dichiarato che un numero enorme di morti e feriti stavano arrivando all'ospedale Al-Aqsa, nel centro della striscia. Hamas ha condannato l'attacco all'alba di giovedì come un orribile massacro e ha detto che molte donne e bambini erano tra le persone uccise e ferite. Le forze israeliane sostengono invece che diversi terroristi sono stati uccisi nel complesso in cui operavano terroristi di Hamas e della jihad islamica, che avevano partecipato all'attacco del 7 ottobre. Sul fronte diplomatico, fonti di Hamas hanno espresso pessimismo riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi con Israele. Israele sarebbe disposta ad attuare solo la prima fase della proposta degli Stati Uniti mantenendo la possibilità di riprendere i combattimenti con l'esercito a Gaza. Un candidato del partito tedesco di estrema destra, Alternative für Deutschland, è stato vittima di un attacco con coltello a Mannheim nel sud della Germania. Heinrich Hoch, candidato alle elezioni comunali, avrebbe sorpreso qualcuno a strappare i manifesti della campagna elettorale e ha cercato di fermarlo. Il sospettato, 25 anni, lo ha quindi aggredito con un coltello. Il politico ha riportato ferite lievi ed è stato ricoverato in ospedale. Il presunto colpevole è stato arrestato, secondo i media avrebbe problemi psichiatrici. Visita della premiera italiana Giorgia Meloni in Albania. La prima ministra ha incontrato mercoledì 5 giugno l'omologo albanese Edi Rama e ha tenuto una conferenza stampa dal porto di Shenzhen, dove verrà realizzato un centro di accoglienza con unità di ricovero per i migranti salvati dalle autorità italiane nel Mediterraneo, in seguito all'accordo siglato lo scorso anno tra Roma e Tirana. Fortemente criticata dalle opposizioni, Giorgia Meloni ha negato che il suo viaggio di un giorno fosse una tappa della campagna elettorale alla vigilia delle elezioni europee in programma l'8 e il 9 giugno in Italia. Secondo quanto previsto dall'accordo quinquennale firmato da Meloni e Rama lo scorso novembre, l'Albania si impegna ad accogliere fino a 3.000 migranti al mese. Il numero di richiedenti asilo inviati nel paese potrebbe raggiungere i 36.000 in un anno.